Un nuovo saluto a voi che ci seguite su formobiles.info video che stiamo girando da Huawei P8 con risoluzione Full HD che è quella massima impostabile dal dispositivo è presente la stabilizzazione digitale dell'immagine che abbiamo attivato e che da quanto vedo sembra produrre un buon risultato quando ci muoviamo a piedi ovviamente è presente il focus automatico ma ho fatto delle prove prima di registrare questo video non sono riuscito a trovare il modo di renderlo automatico senza tappare sul dispositivo proprio una cosa che non riesco a impostare non so se sono io ritardato o semplicemente è una cosa che non si può fare non si può fare effettivamente camminiamo un pochino sto tenendo il telefono con due mani la sensazione che io ho mentre filmo è di un video che viene molto appiattito dalle mie oscillazioni vi rifaccio una bella macro senza mettere il dito davanti al display perché qui l'obiettivo è dove io di solito tengo le dita sperando che non mi rubino la valigia come al solito prima o poi qualcuno capirà che quando giro i video per 4mobiles è il momento di incularmi la valigia speriamo di no proviamo lo zoom come vi dicevo proviamo lo zoom ho scoperto che premendo il tasto volume si va a chiudere il video lo zoom non è fluidissimo però se lo facciamo andare bene benissimo adesso mi perdonerete se unisco i due video ma ovviamente ho pasticciato avete visto come si comporta il telefono con la stabilizzazione voglio mettervi dentro un pezzettino senza stabilizzazione fino alla fontana grazie a tutti